Bella a tutti free readers, ci siamo! Domani è convocata finalmente la Commissione Giustizia per discutere, valutare e votare, attenzione, votare il DDL per Antoni, che è la sintesi tra il DDL Maggi, Molinari e Licatini che propongono depenalizzazione della coltivazione personale, decriminalizzazione in realtà, desanzionalizzazione totale, quindi è possibile, se passerà questa legge, coltivare fino a 4 piante ad uso personale, esclusivamente personale, e verranno leggermente modificate le pene per gli spacciatori e quindi cosa significa? In alcuni casi aumentate, in altri casi abbassate, la lieve entità insomma viene modificata e creata un articolo a parte a sé stante e quindi andrebbe a cambiare fortemente la situazione in Italia su questo tema, sarebbe una svolta clamorosa ed è per questo che tutti ci stiamo concentrando su questo DDL che anche un po' insomma prende le istanze, il manifesto con la linea guida sulla coltivazione personale garantita di 4 piante femmine, lo sappiamo, è poco, certamente per alcuni magari è tanto, per altri è sicuramente pochissimo, ma è una ottima mediazione per partire, per poter cominciare a lavorare e cominciare a ragionare su una normativa che cambi davvero questo proibizionismo che lo distrugga, che lo annienti, che lo tolga, perché bisogna andare verso la libertà e dunque domani finalmente nella commissione giustizia si arriverà alle votazioni sul DDL per Antonio e vedremo come si esporranno i vari partiti, come si esporranno le varie commissioni. Da quello che abbiamo detto sicuramente la possibilità che il DDL venga approvato dalla commissione sono tantissime e quindi il testo base potrebbe diventare il testo del DDL per Antonio e arrivare alla Camera dei Deputati per una discussione pubblica parlamentare che potrebbe coinvolgere anche l'intero Stato, l'intera opinione pubblica appunto e ampliarsi finalmente cosa necessaria per un'approvazione ma anche per un confronto sul tema. E allora vedremo domani come si svilupperà questa situazione e stasera, se riusciamo, mandiamo un ultimo breve aggiornamento sulle proiezioni del voto domani. Fateci sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo presto stasera con questo aggiornamento e rimaniamo aggiornati perché domani è una giornata fondamentale per questa battaglia che stiamo portando avanti. Bella a tutti i Free Withers, fino a libertà.